La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato 5 milioni di euro ad un imprenditore edile in odore di indrangheta. Un'operazione supportata dai comandi delle fiamme gialle di Ancone e Pesaro Urbino, provincia in cui sono stati confiscati alcuni terreni e immobili riconducibili al provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dell'imprenditore in questione. È un'operazione che arriva nella settimana del 250esimo anniversario della Guardia di Finanza, occasione in cui le fiamme gialle pesaresi hanno tratto il bilancio della loro attività nel periodo compreso tra gennaio 2023 e maggio 2024. Un periodo in cui in contrasto all'evasione fiscale sono stati individuati 84 evasori totali per beni sequestrati a 4 milioni e 200 mila euro, individuati anche 124 lavoratori in nero. Nel contrasto alla criminalità organizzata in materia di riciclaggio sono state denunciate 24 persone di cui tre tratti in arresto ricostruendo operazioni illecite per 2 milioni e 300 mila euro. In applicazione della normativa antimafia sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 56 soggetti. In tema di lotta allo spazio di stupefacenti 39 segnalazioni all'autorità giudiziaria con 15 arresti e 23 chilogrammi di droghe sequestrate. In tema di merci contraffatte sono stati sequestrati 323 mila articoli ritenuti non sicuri o con false etichettazioni del made in Italy. In tema ambientale sono state sequestrate 600 mila tonnellate di rifiuti anche pericolosi in stato di abbandono o degrado.